ciao a tutti ragazzi sono Mattia di Lemori e oggi sono qui per portarvi il codice seriale di Diarga come sapete Game Freak ha rivelato dei codici che ci darà mese per mese in questo mese febbraio e quindi alla Diarga perché ho portato un'ultima luna se fosse stato il testo ci sarebbe stato palcchia nei primi da GameStop il terzo forte giugno ora andrò in dono segreto il cebidono tramite codice seriale certo sì ora io taglierò e metterò il codice ok ho inserito il codice andrà a picciare ok spero di averlo fatto giusto che sono solo nessuno che mi ha aiutato vediamo 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 dai eccolo qui poca non diarga mostra esclusiva frago il tempo eccolo qua bello diarga mi piace più diarga pare che possiamo sapere con un fulvento ottimo ok ora postino tanto deposito un poca diarga diarga eccolo qua eccolo qui postino certo sì diarga eccolo qua vediamo a livello 100 ragazzi a livello 100 con cannon flash frago il tempo forza sfera e brago void fiat potentissimo ora testeremo anche uno strumento tra l'altro lo prendiamo andiamo a testarlo dell'erba alta deve essere un buon poca diarga diarga acciaio testiamolo vediamo chi è un ricapitato per hyper ma lo facciamo fuori subito a diarga diarga a livello 100 andiamo subito con frego al tempo troviamo la sua mossa peculiare vediamo vediamo bomba potenza chi è l'ho affrontato di brutto a livello 100 bello diarga bello mi piace e niente ragazzi da me è tutto spero che il video vi sia piaciuto ricordatevi che questi codici sono gratis andate nel guest shop non dovete comprare nulla e niente noi ci vediamo in un prossimo video ciao da mattia